MILAN INSIDE Per seguire insieme le partite e per commentarle insieme Allora, vittoria 2-1, vittoria sofferta Perché vittoria sofferta? Fondamentalmente perché a parer mio è una vittoria meritata Perché comunque meritava di vincere la partita al Milan Chi dice di no non so che partita abbia visto Perché fino alla fine noi ci abbiamo messo del nostro Anche quando abbiamo subito l'1-1 abbiamo subito iniziato a premere per cercare di tornare in vantaggio Poi abbiamo vinto solo 2-1 Ok, è una vittoria di misura ma molto importante Cioè l'hanno strappata con la forza i ragazzi Cos'è che è successo per non vincere con magari un po' più di agio Un po' più di tranquillità, ecco per magari trovare il gol del 3-1 Sono mancate, cioè fondamentalmente sono mancate La finalizzazione, vedi l'occasione di Rebic Nell'area, praticamente nell'area piccola Tu per tu con Perin che l'ha sparata in tribuna Tiro di Cialanoglu Anche quello vicinissimo all'area piccola Eppure la sparata alta Inoltre sono mancati tantissimo anche gli ultimi passaggi Quelli chiamati ultimi passaggi Quelli che se è lì e lì per calciare Ti arriva il passaggio giusto E provi appunto a finalizzare Gli ultimi passaggi che sono stati sbagliati tanto da Cialanoglu Che dovrebbe essere la sua specialità Visto che comunque gioca dietro alle punte E quei passaggi lì li deve far lui la maggior parte Poi comunque Cialanoglu E parleremo dopo nei voti Però comunque nel complesso una prestazione Che non mi sento di dire che Ci è andata male la partita fondamentalmente L'unico errore invece è arrivato Da una persona che comunque In questo momento qui è molto in forma Stiamo tutti noi tifosi Ma anche comunque gente esterna dal Milan Sta reputando un ottimo giocatore Ovvero Tomori Errore di marcatura a suo destro Che ha siglato il momentaneo 1-1 del Milan Quindi sì poi l'unico errore grosso Che mi ricordo Anche perché altri errori grossi Non ce ne sono stati Errori piccolini Passaggi Magari aperture Sì ok Però io mi sto riferendo a errori Comunque grossi grossi E niente adesso andremo a parlare Dei voti che compariranno adesso Eccoli qua Queste qua sono le pagelle stilate È la pagella scusate Dei voti stilati Dalla redazione di Milan Inside Voti per la maggior parte sufficienti Perché appunto Come io sono d'accordo con loro Questa partita qua L'abbiamo meritata di vincere Quindi se una squadra Merita di vincere una partita Fondamentalmente È perché la squadra intera Ha giocato abbastanza bene Ovviamente c'è chi più chi meno Adesso andremo a vedere nel dettaglio Però la prestazione generale A parer mio è una prestazione Sufficiente Forse Bisognava Finalizzare appunto di più Allora partiamo con i voti Donna Rumma 6 Fondamentalmente Gigio sul gol non ha colpa Ho letto gente che Se la prende con Donna Rumma Poi vabbè Sono tutte pareri personali Ragazzi Per l'amor del cielo Però ho letto veramente Che c'è gente che Ha dato la colpa Del gol che abbiamo subito A Donna Rumma Io sinceramente Non so che colpa Possa avere Perché comunque La palla Non era un'uscita chiara Per un portiere quella Perché non è che era Nella sua area piccola La palla è arrivata fuori Dall'area piccola Quindi lì c'è Ci sono tutti i tuoi difensori Se l'uomo fosse stato marcato Quel colpo di testa Non arrivava in porta Quindi assolutamente Non mi sento di dar colpi A Donna Rumma L'unica cosa è stata un po' L'uscita maldestra Quella sul doppio miracolo Di Tomori Kear Sulla linea Grazie al signore Che non ha Che è stata l'unica L'unica Tra virgolette L'unico errore Tra virgolette Di Donna Rumma A parer mio Rischiosissimo Perché poteva portarci Sul 2 a 2 E la partita terma E sarebbe finita lì poi Quindi Pericoloso Calulu 6 Prestazione nel complesso Sufficiente Ha fatto qualche errorino Qualche passaggino Sbagliato Però comunque Si è sempre impegnato Anche in fase offensiva Cosa molto importante E quindi Si merita la sufficienza piena Calulu Teo Hernandez 6 E' quel Teo E' quel Teo Che non è Non è ancora Il Teo Hernandez Di una volta Corre Ok Fa dei begli interventi E dei bei passaggi Nello stretto Sì Però è un 6 Tra virgolette Di incoraggiamento Perché Teo Hernandez Che ci ricordiamo noi Era da 7 Ogni partita Prendeva Partiva Non gli stava dietro Nessuno Purtroppo è un periodo Un po' così E deve Riprendersi al più presto Perché comunque Adesso ci aspetta Un filotto di partite Veramente difficili Per il nostro cammino In Champions League Poi Tomori 6 Eccolo qua Tomori alla fine E' una sufficienza piena La sua L'errore E' stato un errore E' stato un erroraccio Perché comunque Lì L'uomo è tuo Non puoi farlo saltare Così E colpire di testa Però il concetto E' che Ok Tralasciando il gol Salvato sulla linea Quello che prima Ha provato Masiello La parata Kier Palla che rimane libera Mi calcia Porta vuota E Tomori Lo salva Salva sulla riga Però comunque Nel complesso Ragazzi Non ci può dare Un'insufficienza Tomori Ha gestito bene La difesa E' Uscite Cioè Interventi a centrocampo Usciva in anticipo Prendere la palla A centrocampo Quindi ragazzi Un giocatore comunque Che sta facendo tanto Un errore capita Ok E' un errore Nel Cioè Per colpa del quale Abbiamo subito gol Per carità Però comunque Alla fine Non so se siete D'accordo con me Però Io lo reputo sempre Una sicurezza Per la nostra difesa Capitano gli errori Però Ha dimostrato Comunque anche in questa partita Nonostante tutto Di aver la testa Di essere concentrato E comunque Di essere sicuro Dei suoi mezzi Kier 7 Kier 7 Meglio in campo Oggi Kier Ha difeso bene Ha attaccato anche bene Vedi Il quasi Gol Sul colpo di testa E comunque Come dicevo anche in live Le soluzioni Anche offensive Di Kier Quindi i suoi lanci Improvvisi Sono un'arma Veramente in più Per il nostro Milan E quindi Ne ha fatti Due o tre Tra cui Due Sono andati a buon fine E capite che Quelle occasioni lì Sono veramente Importanti Quindi Kier per un Insieme di cose Oggi È il migliore in campo A parere mio Quindi tra passaggi Sia in fase Difensiva Sia in fase Offensiva Gestione della partita Poi le occasioni Create in fase Offensiva Quindi assolutamente Oggi super promosso Kier Migliore in campo Benasser Kessi 6 Forse avrei dato Un po' di più A Benasser Io ho fatto un po' di più Di Kessi Per me Benasser È da 6 e mezzo Qua Perché comunque Ha ottenuto Più recuperi In mezzo al campo Ha ottenuto Molti più falli Molto utili Benasser Di Kessi Però nonostante tutto Comunque anche Kessi Ha fatto il suo Magari un po' meno Rispetto alle altre volte Però comunque Dimostriamo di avere Un buon centro campo Sia Benasser Che Kessi Cioè la coppia Benasser Che Kessi Ragazzi in mezzo al campo Per me È fondamentale Ora come Ora si trovano bene Sanno Coprire gli spazi Bene Entrambi E anche in fase Offensiva Comunque Ci mettono Impegno Stanno iniziando Come detto Anche dalla scorsa Volta Che si Soprattutto Sta iniziando Un po' di più Affacciarsi Nella fase Offensiva Che è un bene Salimakers 6 Partita Non male Di Benasseri Scusate Di Salimakers Ogni tanto Ha fatto Invece Questa volta Questa L'altra volta Dicevo Che era sempre Non scontato Questa volta Ha fatto due o tre cose Scontatissime Che Per le quali Gli ha rubato Un po' troppo La palla Però comunque Anche lui Un 6 Un 6 pieno Assolutamente Per la partita Che ha fatto Soprattutto Per le incursioni Sulla fascia Allora Eccola qua La prima insufficienza C'è la Noglu 5 C'è la Noglu 5 Perché Non più basso E sono d'accordo Perché fondamentalmente I passaggini Magari qualche incursione L'ha fatta anche Arrivato al tiro Qualche volta Il problema Che per il suo ruolo Non ha creato Nulla di pericoloso Tramite passaggi O Altre O altre Situazioni Il problema È che C'è la Noglu Si deve riprendere Perché ora Come ora Ci serve Un giocatore Così Con le sue qualità Dietro alle punte Quando in forma In un momento Nello scatto finale Verso la Champions League Sarebbe fondamentale Quindi io mi auguro Che già settimana prossima Con Il Sassuolo Un minimo Si riprenda Se non addirittura Si riprenda Con la Lazio Perché ci serve Ci serve C'è la Noglu Purtroppo oggi Ha dimostrato Che non è ancora Il solito C'è la Noglu Quindi prima insufficienza Di oggi A C'è la Noglu Rebic 6 e mezzo Rebic oggi Veramente mi è piaciuto Tanto Mi è piaciuto Veramente tanto Tralasciando il gol Che di primo impatto Mancino Fuori area Al volo La messa sul secondo palo Gran bel gol Ma poi anche per Oggi ha corso Per 30 uomini Rebic Oggi ha corso Tantissimo E mi è piaciuto L'impegno Con il quale Andava sul pallone Con il quale Provava a difendere Con il quale Si inseriva in avanti Ecco L'unica pecca Che secondo me Non gli ha fatto Raggiungere il 7 È stato Quell'occasione Lì mangiata Ovvio Non è che puoi basare Una valutazione Su una singola Azione Il problema È che da lì Devi far meglio Perché Non è che Era fuori area E ha preso traversa Era Praticamente Dentro l'area piccola E non ha centrato Neanche la porta Quindi questi sono errori Che ogni tanto fa Perché lui li fa Ogni tanto questi errori Però Il problema è che Pesano a volte Perché se fosse finita 1-1 La partita di oggi Sarebbe pesato Come un macigno Questo errore qua Raffaele Oggi Peggiore in campo Doveva dimostrare Di essere valido Per essere un vice Ibra Ma non lo dimostra Sempre super leggero Cioè nel senso Che gioca con troppa Leggerezza Arriva sotto porta Sbaglia L'ultimo tocco Inciampa Nelle sue gambe Sta giocando con troppa Leggerezza A me dispiace Perché un giocatore Che reputo Talentuosissimo Con un potenziale Enorme Il problema è che Ha sempre quel sorriso In faccia Gioca troppo leggero E oggi si è visto Oggi si è visto Per l'ennesima volta Che non ha combinato Nulla fondamentalmente Se non un tiro Centralissimo Che per inapparato Tutto perché ha sbagliato A controllare la palla Quindi Bocciatissimo Raffa Mandzukic Mandzukic 6 Oggi finalmente Si è visto Mandzukic in campo A parer mio Determinante Sull'autogol Di Scamacca Perché comunque Palla messa in mezzo Mandzukic ha saltato Praticamente Per spizzarla L'ha mancata Però è andata In disturbo E Scamacca Non ha visto la palla Che gli arrivava addosso E la palla è entrata In più Comunque Anche alla fine Quando c'era da difendere Mandzukic c'era Quindi un 6 Super pieno E mi fa piacere Vedere un Mandzukic Così volenteroso Speriamo che in questa fine di stagione Sia Sia Veramente utile Per le capacità che ha E speriamo che ci possa togliere Anche qualche soddisfazione Magari sapete già Anche contro di chi Che dovremmo giocarci Fra un po' Tonali 6 È entrato bene Nulla da dire Ha fatto 2-3 interventi belli Passaggi semplici E puliti Ha provato anche a far ripartire Un po' di volte le azioni Non male Tonali Tonali in quest'ultimo periodo Sta tornando un po' su Quindi non male In termini di prestazioni Brevdiaz 6 Anche lui Un 6 Sì Non è entrato Ha toccato un paio di palloni Non ha fatto niente di che Non mi sento di Di dire nient'altro Su di lui Quindi un 6 pulito Dalot 6 Dalot bene Dalot molto bene Forse qua anche qua Gli avrei dato un 6 e mezzo Perché ha fatto due begli interventi Dalot In fase difensiva Verso la fine Crunice senza voto Perché è entrato Non ha fatto praticamente nulla Non ha fatto praticamente nulla È entrato proprio negli ultimi minuti Negli ultimissimi minuti Quindi fondamentalmente Ha toccato un paio di palloni Ma non ha fatto nulla Per il minutaggio che mancava E infine Mister Stefano Pioli Votazione principale Votazione totale Un bel 6 Una bella sufficienza Cambi secondo me corretti Giusto Fare il triplo cambio Per me è stato un azzardo Però è stato corretto Perché hai Rianimato un po' il tutto E poi comunque Bene Mi è piaciuto Mi è piaciuto Quindi niente ragazzi Queste sono le mie impressioni Sulla partita Io vi ricordo Che aspetto i vostri commenti Qua sotto Se per caso Non siete d'accordo con me Siete d'accordo con me Non lo so Scrivete quello che volete Io mi raccomando Vi aspetto su Twitch Prossimo appuntamento Mercoledì alle ore 18.30 Con Milan Sassuolo E niente ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Lasciate un bel mi piace E ci becchiamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti